Dopo il minimo storico degli ultimi 66 anni raggiunto l'anno scorso, tornano a crescere in Italia le morti sul lavoro. Secondo la relazione annuale dell'INAIL, nei primi 5 mesi del 2018 ci sono state il 3,7% in più di infortuni mortali rispetto all'anno scorso, 389 il numero delle denunce. La metà degli incidenti avviene nel tragitto casa-lavoro. Il motivo, secondo INAIL, sta nella ripresa economica e nel conseguente aumento della produzione. A commentare questi dati il ministro del lavoro Luigi Di Maio che ha parlato di un eccidio senza fine che lo Stato deve saper affrontare.